Nome. Fritz Arman. Soprannome. Il vampiro di Hannover, il macellaio di Hannover. Numero vittime. 27. Modus operandi. Descava con vari pretesti ragazzini che uccideva durante rapporti omosessuali, spesso azzannandoli alla gola. Si disfaceva dei cadaveri spacciando la carne per suina. Probabili episodi di cannibalismo. Fritz Arman nasce ad Hannover nel 1879. È il sesto figlio di una famiglia molto particolare. Il padre è un ferroviere scontroso e dal carattere chiuso, tanto da essere soprannominato dai compagni l'imbronciato, e la madre è di sette anni più vecchia di lui ed è autoritaria e invalida. Passerà gli ultimi dodici anni della sua vita senza potersi alzare da letto. Sin da piccolo, Arman si lega molto di più a lei che al padre, che non ha rapporti con nessuno, neanche in famiglia, e passa gran parte del suo tempo a bere nelle osterie. Vivendo in simbiosi con la madre, il bambino cresce manifestando una tendenza all'omosessualità. Gioca con le bambole e si comporta in maniera ambigua, travestendosi spesso da donna. A sedici anni, il padre, infastidito dai suoi modi effeminati, lo spedisce in una scuola militare dove però Arman rimane ben poco, a causa di marcati sintomi di epilessia. Congedato e ritornato ad Hannover, non passa molto tempo prima che Arman venga accusato di aver molestato un ragazzino più piccolo di lui. Viene chiuso in un istituto psichiatrico dove è giudicato frenastenico, alienato e socialmente pericoloso. Ne scappa dopo soli sei mesi di permanenza. Il periodo difficile sembra finire quando instaura una relazione con una ragazza, Ernalo Ewert, ma l'illusione dura poco. Quando viene a sapere che la ragazza è rimasta incinta la abbandona per arruolarsi nell'esercito, nel 1900. Anche qui a Arman ha continui problemi. Soffre di vertigini, spesso ha frequenti crisi e i medici militari lo giudicano affetto da schizofrenia giovanile. Nel 1903 viene congedato e lui ricomincia la solita vita dissoluta divertendosi a molestare frequentemente ragazzini. Si presenta come un ragazzo instabile, pieno di complessi, e nonostante fosse nato in una famiglia benestante, non riesce mai a sfruttare tutte le occasioni di lavoro che il padre trova per lui. Viene allontanato da diversi datori di lavoro per quella sua aria indifferente e distratta. Nel 1914 il tribunale di Hannover lo condanna a cinque anni di carcere per un furto in un deposito. In prigione a Arman si comporta da detenuto modello e riesce a ottenere la libertà condizionata nel 1917, ma una volta fuori dal carcere si unisce a una banda di trafficanti, mentre contemporaneamente collabora come informatore per la polizia. D'ora in poi si spaccerà spesso per l'agente a Arman. Siamo nel 1918. Friedel Rote scappa di casa dopo aver litigato aspramente con i suoi genitori. Una sera Friedel segue Arman fino al suo appartamento. Quest'ultimo vuole subito avere un rapporto con il ragazzo, ma nel corso dell'atto si dimostra violento e irruente, fino a sconfinare nell'orrore in preda alla sua passione e ad azzannare la gola di Friedel. Arman serra sempre di più la mascella imprigionando il respiro del ragazzo che man mano si fa più lieve. Prova piacere e inquietudine quando ingoia il sangue della sua vittima, e quando Friedel esala l'ultimo respiro si sente confuso ma allo stesso tempo soddisfatto. Sistema il cadavere sul pavimento e con i suoi attrezzi da macellaio lo sventra e mette le sue viscere in un secchio. Taglia gli arti, il membro e la testa al cadavere e asciuga il sangue a terra con dei vecchi stracci. Svuota il secchio nel fiume di Hannover, conserva la testa e vende e regala ai vicini di casa il resto del corpo spacciandolo per carne suina. La scomparsa di Friedel mobilita la polizia che ben presto arriva a far visita all'appartamento di Arman, che viene scoperto mentre sta molestando un ragazzino di 14 anni. Sia lui che il giovane vengono arrestati per atti di offesa al pudore e all'onore sessuale. Dopo un breve periodo in carcere, una volta uscito Fritz Arman deve cercarsi una nuova sistemazione. Nel 1919 Arman ha 40 anni e conosce Hans Grans, un ragazzo di bell'aspetto, alto, snello e con i capelli biondi. Lo avvicina per una prestazione sessuale, Hans è scappato di casa e sono giorni che non ha un riparo e da mangiare, e così accetta. Arman lo accoglie nel suo appartamento e se ne innamora. I due iniziano a frequentarsi spesso, fino a diventare quasi una coppia stabile ma, per evitare gli sguardi dei vicini e le voci che girano sul loro conto, sono costretti a cambiare più volte sistemazione. Hannover, 1923. Fritz Franke arriva in città con Paul, un amico, con l'intenzione di ripartire subito per Berlino. I due ragazzi arrivano alla stazione e chiedono informazioni a un agente di polizia, l'agente Arman. Questi lascia andare Paul a un ostello e porta a casa con sé Fritz. Hans Grans, a cui ha detto di voler restare solo quella notte, conosce i piani di Arman e sa cosa sta per succedere al giovane berlinese. Lo stende per terra e lo squarta, mette le viscere nel secchio, taglia la testa e gli arti, e dopo aver sminuzzato i resti li conserva in una busta. Pulisce tutto e chiama Hans, ha nuovi vestiti da vendere alla stazione. E nuova carne. Hans, che non riesce più a sopportare la situazione, prova a parlare nuovamente con Dorken, una sua amica prostituta che lavora proprio sotto casa di Arman. Ha una gran voglia di raccontare tutto. Le dice che il ragazzo di Berlino ha fatto una brutta fine. La prostituta non ci crede. Ma c'è un particolare che la insospettisce, una bacinella piena di carne sotto il lavabo della stanza. Quando non c'è nessuno in casa ne prende un pezzo e lo porta a far esaminare alla centrale di polizia di Hannover. Gli agenti però non danno credito a una prostituta e la allontanano bruscamente. 20 marzo 1923. L'agente Arman offre riparo ad un giovane apprendista, Wilhelm Schulze, 16 anni. Wilhelm non torna più a casa. 23 maggio 1923. Il quindicenne Ronald Ducchi incontra l'agente Arman e si fida di lui. La sua carne viene regalata ai vicini di casa. 30 maggio 1923. È il turno del tredicenne Ernst Herrenberg. Ernst è scappato di casa per sfuggire alle punizioni del padre e segue l'agente Arman che si offre di proteggerlo. Si perdono le sue tracce. L'avanti e indietro di ragazzini da quell'abitazione iniziava a destare sospetti. Così Arman cambia ancora abitazione. Va ad abitare sopra un ristorante. 24 agosto 1923. Heinrich Struss, 18 anni. Esce di casa nel pomeriggio, incontra l'agente Arman e non fa più ritorno a casa. 24 settembre 1923. Tocca a Paul Bronischewski. 29 settembre 1923. Richard E. Graff, 17 anni, sta cercando un lavoro per scappare dalla vita infame che è costretto a fare. L'agente Arman ce l'ha un posto per lui. Nella bacinella. 12 ottobre 1923. V. Elmerdner, 16 anni. 24 ottobre 1923. Shristofevov, 15 anni, è per strada a fare delle commissioni con il fratello maggiore, si allontana per andare in bagno e non ritorna più. Anche i nuovi vicini di Arman si accorgono che c'è qualcosa che non va. I secchi pieni di viscere, le buste nere che lui trascina fuori dalla stanza, i ragazzini che porta sempre con sé e tutta quella carne che regala. Dal novembre 1923 a giugno 1924 spariscono altri 13 ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 20 anni. Il 17 maggio 1924 un gruppo di bambini che gioca vicino al castello di Hannover trova un teschio umano. Il 29 dello stesso mese il fiume Leine porta alla riva altri pezzi di cadaveri. Scatta il panico in città, la polizia decide di prosciugare il fiume e il risultato è sconvolgente, sul suo letto vengono ritrovate circa 500 ossa appartenenti ad almeno 12 corpi diversi. È caccia al mostro. Arman non è sospettato, ma il 23 giugno 1924 si presenta alla polizia per consegnare un giovane di 15 anni, Karl Fromme. Non ha voglia di ucciderlo, vuole solo fargli passare qualche brutta ora. Quando arriva alla stazione di polizia però Fritz Arman viene accusato dal ragazzino di averlo molestato sessualmente e di colpo diventa il sospettato numero uno per la catena di delitti. Durante gli interrogatori, egli si contraddice spesso, ma riesce a cavarsela senza troppa difficoltà spiegando che il gran numero di vestiti che possiede è dovuto al fatto che è un commerciante e contrabbanda ingenti capi d'abbigliamento. È troppo effemminato per essere un assassino, pensano gli agenti, e infatti Arman appare più come una donna che come un uomo, sbatte le ciglia, cammina in modo strano. Ma i genitori di Robert Witzel, scomparso il 26 aprile, si accorgono che Arman ha addosso il cappotto del figlio. Dopo una perquisizione, gli agenti scoprono che nella tasca del sopravvito ci sono ancora i documenti del giovane Robert. Arman viene allora incarcerato. Il processo incomincia il 4 dicembre 1924 e dura 14 giorni. L'imputato riconosce subito i suoi omicidi, ma a volte collabora aggiungendo altri particolari e altre invece cerca di scaricare le colpe sul suo compagno Hans. Altre volte ancora, poi, da innamorato cerca di difenderlo da ogni tipo di condanna. Il suo comportamento è sempre freddo e distaccato. Il processo si conclude il 19 dicembre 1924. Arman viene giudicato colpevole di 24 omicidi e condannato a morte. Anche Hans viene condannato a morte, per istigazione all'omicidio di due vittime. Arman accetta la sentenza senza battere ciglio e prima di morire chiederà di essere seppellito al centro del mercato e di scrivere sulla lapide, qui già c'è Arman, l'omicida di massa.